Bossi in questo momento storico da solo non ce la fa, quindi ha bisogno della stampella. Bossi in questo momento storico da solo non ce la fa, quindi ha bisogno della stampella. Bisogna sapere che cosa dicono in queste moschee. Bisogna sapere che cosa dicono in queste moschee. Le stranieri devono tornare a casa, cioè uè. Le stranieri devono tornare a casa, cioè uè. La sanità è sanissima, pulitissima. La sanità è sanissima, pulitissima. È bello vivere a contatto col marciapiede. È bello vivere a contatto con il marciapiede.